ciao ragazzi secondo giorno inizia tra poco ci stiamo avviando verso il trend studio dove ci sarà oggi il workshop cosa hai in mano? questo è un regalo di un amico allora Francesco, raccontami un po' che ti aspetti da questa giornata? come al solito grande giornata di fotografia, divertimento, di conoscenza di nuove persone quindi diciamo che buoni propoglio perché sicuramente andrà tutto bene come al solito grazie a tutti i maschi ma siamo degli alunni modello guarda qua allora finito oggi il workshop è andato bene io contentissimo è sempre bello poter così poi conoscere le persone che ti seguono insomma poi è sempre bello Paola è stata bravissima la modella ho visto degli scatti bellissimi siamo venuti a mangiare greco conizio che c'è una fama che non si vede più farla gesti mi piace